ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere una lavorazione che mi capita di fare ahimè molto spesso nelle case diciamo un po datate ma molto vecchie ecco dico ahimè perché purtroppo è una lavorazione che non è proprio il massimo della tecnologia esistente oggi sul mercato ma va fatta per una questione anche di messa in sicurezza infatti tante volte vado a farla in alloggi di inquilini e mi capita spesso ad esempio nelle vecchie case antiche anche di prestigio dove per svariati motivi gli impianti elettrici vengono rifatti tra virgolette e molto spesso nelle vecchie scatole tonde quelle che c'erano col buco tondo nel muro vengono diciamo adattate delle serie più moderne spesso vengono cambiati anche tutti i cavi quindi un lavoro che fatto a norma come si deve ahimè non è stato fatto nell'alloggio che vedrete oggetto del video in buona sostanza dentro le vecchie scatole tonde vengono montate le serie diciamo attuali non tutte le marche fanno la placca il telaio adattatore per montare i frutti nuovi nelle scatole tonde e tra quelle che li producono ce ne sono alcune che in un telaio riescono a far stare due frutti e alcune che in un telaio per scatola tonda ci sta un solo frutto alcune usano dei moduli ridotti più stretti alcune dei moduli normali insomma ce n'è vari tipi e purtroppo vi dico che non tutti i telai adattatori per scatola tonda possono essere fatti diciamo nativamente per essere anche tassellati perché quello che vi farò vedere oggi è come tassellare questi telai al muro quando le due graffette che tengono che tirano dall'interno non tengono a sufficienza ma in realtà non tengono quasi mai qua abbiamo due telai tutti e due della bticino uno matix e uno international living questo qua della matix vedete che ha già i fori diciamo predisposti per alloggiare i tasselli mentre questo non li ha qua bisognerebbe fare degli adattamenti un po più complicati bisognerebbe fare un foro piccolo qua nell'angolo usare una vite a testa svasata che rimanga a filo molto piccola perché altrimenti poi non si riesce a incastrare bene la placca cosa che non succede con questi perché sono diciamo predisposti e hanno la sede qua per la testa della vite che non intacca il corretto montaggio della placca in alternativa si possono usare queste due sedi che però rimarrebbero solo superiore inferiore insieme alle due graffette se sono ancora integre danno sicuramente una tenuta maggiore rispetto alle sole graffette però il sistema con i quattro tasselli è indubbiamente il migliore ora vi faccio vedere un po tutta la pratica ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i posti dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale una situazione che capita spesso di trovare questa dove arrivando si trova tutto il modulo che si muove e che viene via senza troppa difficoltà quindi poco sicuro la prima cosa che faccio normalmente quando lavoro diciamo per stare nel pulito uso questo sistema di un sacchetto col nastro per non sporcare sotto quello che dobbiamo fare ora è praticare dei fori da 5 5 e mezzo esattamente in questi punti contrassegnati con una punta da ferro in questo modo facendo attenzione ovviamente a non danneggiare nulla e a non prendere il muro chiaramente dopo aver rimosso il telaio dalla sua sede poi con un marcatore tipo i pica di profondità che sono fantastici dobbiamo praticamente rimettere il telaio al suo posto cercando di metterlo in bolla o comunque come era prima se abbiamo segni particolari sul muro e marcare i quattro punti dove dobbiamo effettuare i fori nel muro fino ad ottenere questo risultato chiaramente dobbiamo fare molta attenzione perché prima di fare i fori in prossimità della loro posizione dobbiamo verificare che non ci siano tubazioni che arrivano come in questo caso dove vediamo che ad esempio tra le due scatole tonde c'è un collegamento centrale quindi in quel punto se cade il segno di una vite è meglio non effettuare il foro calcolate che con questo sistema anche mettendo solo due tasselli su quattro il risultato è già soddisfacente ora con una punta da 5 come queste della fisher a quattro punte che vi lascio in descrizione procediamo con effettuare i quattro fori se riuscite è meglio farli senza percussione per evitare che il muro essendo sicuramente vecchio e comunque molto vicino alla scatola tonda non ceda eccessivamente fino ad ottenere questo risultato ora prendiamo dei tasselli vi consiglio di usare i fisher sx da 5 che sono perfetti e andiamo inserirli uno a uno nel foro mandandoli fino in fondo con eventualmente l'aiuto di un martellino rimettiamo il tutto al suo posto e imbocchiamo le quattro viti inizieremo ad avvitarle con l'avvitatore ma con un livello di frizione molto molto basso per poi fare il serraggio diciamo definitivo consigliabilmente a mano se le graffette sono ancora integre funzionanti dopo aver avvitato i quattro tasselli conviene avvitare anche quelle vedete che le viti rimangono perfettamente nella sede senza intralciare il montaggio della placca finale questo è il risultato finito assolutamente invisibile ma assolutamente anche sicuro al cento per cento ora vi faccio vedere lo stesso procedimento su un'altra presa così lo vediamo due volte inserirli un'altra presa di un'altra presa di un'altra presa di un'altra presa inserirli un'altra presa di un'altra presa di un'altra presa di un'altra presa e questo è quanto purtroppo come vi dicevo all'inizio non si può fare su tutti i telai da scatola tonda alcuni hanno la sede per le viti alcuni no per i telai che non sono diciamo predisposti diventa molto molto più complicato e molto più difficile da eseguire correttamente diciamo che in extremis si può fare anche quello anche perché purtroppo tutti questi telai con le graffette non tengono per niente e questa modifica va fatta praticamente sempre io la faccio volentieri se mi chiamate vengo a farla però se volete risparmiare qualche soldino vedete che è una cosa che non è difficile potete farla benissimo da soli come al solito spero che il video sia stato utile ho cercato di spiegarvi in modo chiaro tutta la procedura se avete qualche domanda non esitate a farla nei commenti o scrivetemi all'assistenza e sarò felice di rispondervi un bel like iscrivetevi al canale vi lascio il link per tutto quello che può essere utile comprare nel canale telegram trovate tutto anche nella mia pagina amazon massidattoli tech solution io vi ringrazio ancora ci vediamo al prossimo video alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massidattoli ciao 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 ciao